Buonasera signori, ecco a voi, intervista ai migliori in campo, Inghilterra a Costa D'Avorio. Emanuele Sposito, come è andata ragazzi? Scadillo. Tutto bene. Diciamo che Rotolone è stato il miglior in campo, però... Però causa forza maggiore. Problemi di timidezza, non è voluto venire. No, perché è un po' timide ragazzi. Com'è stata la partita, come questo esordio ad Inghilterra, com'è andato? L'Inghilterra è andata abbastanza bene, diciamo, anche perché in cominciare a giocare anche mio fratello, che ha detto che voleva fare un torneo e l'abbiamo iscritto. E diciamo che la squadra c'è, bisogna un po' trovarci un po', perché mio fratello è la prima partita che fa con noi, quindi bisogna un po' trovare le misure. Comunque penso che possiamo andare molto... Qualche messaggio da dire ragazzi del torneo del mondiale? No, no, nessun messaggio dopo quello che è successo a Sette, nessun messaggio. Va bene, va bene. Complimenti ragazzi, in bocca al lupo. Ciao, ciao.